che superate gli ore, sapere dopo queste tre settimane cosa accadrà veramente? Lo so, lo so, questo avete ragione perché il punto e le aspettative su queste tre settimane cattaneo sono altissime perché le persone dicono facciamo questo ulteriore sforzo per queste tre settimane ma poi non ci chiedete più niente, attenzione che quello che avete in mano è importante. Sforzo, esatto, quindi approvvigionamento dei vaccini però mi sembra che oggi abbiamo parlato tutti la stessa lingua, il vaccino è la via per la libertà quindi acquisirlo, farlo velocemente e poi che sia l'ultimo sforzo davvero. Allora grazie a tutti vi ricordo che oggi anche bandiera a mezz'asta è segno di lutto perché è il 18 marzo ed è stato deciso giustamente di dedicarlo a tutte, le tante, le troppe persone che hanno perso la vita da un anno praticamente a questa parte per questo maledetto covid e anche per questo e anche per rispetto a tutte quelle persone che oggi avrebbero voluto tantissimo vaccinarsi, vi prego vaccinatevi, grazie ancora, ci vediamo domani Andrea Pancani, Coffee Break.